Questa mattina ci siamo trovati lì alla Rabbina Imperia, la previsione era peggiorata e davano rebosso che sarebbe quando il vento da ovest, che è quello che volevamo noi, gira nel Golfo Ligure e arriva da est, quindi perfettamente al contrario, ed era la paura che avevamo. In quel momento lì non c'era veramente niente vento, quindi siamo partiti e abbiamo fatto 40 minuti scarrocciando, che sarebbe vuol dire andare alla deriva, siamo andati 40 minuti alla deriva, verso il centro diciamo del Golfo Ligure e per fortuna c'era una linea, abbiamo visto una linea che si avvicinava o noi ci avvicinavamo una linea, comunque erano le due cose insieme ed era l'ovest, il vento che volevamo che si avvicinava. Appena abbiamo preso il vento era subito perfetto, il vento è stato veramente da paura per diciamo due ore e mezza, abbiamo avuto belle onde nel centro, abbiamo visto delfini, è stato molto bello e siamo riusciti a tenere una velocità alta, dopo la partenza così complicata in cui veramente pensavamo di non riuscire, partire e tenere una velocità media intorno ai 23-24 nodi è stato fantastico, perché comunque ti gasa diciamo, ti torni a essere convinto e avvicinandoci alla costa della Corsica il vento ha cominciato a calare, l'onda aumentare un po', abbiamo capito che doveva spingere un po' di più per toglierci di mezzo, perché se passava una nuvola o qualcosa poteva calare, poteva rimanere in mezzo. Ci siamo portati diciamo a 5 miglia della costa, si vedeva già l'isola della Giraglia e lì è stato complicato perché di nuovo c'è stato un caldo di vento, quindi di nuovo sono finito alla deriva, sono riuscito ad andare verso riva, diciamo, verso terra, mi sono avvicinato, diciamo, 2-3 miglia verso terra senza andar forte, senza planare, senza sollevarmi sull'ala e anche lì è stato complicato perché dopo aver fatto più di 70 miglia tra andando forte, allo scarroccio al mattino, 5 ore che navigavamo, mentalmente non ce la facevo più. Poi per fortuna avvicinandoci proprio nell'ultimo pezzo vicino alla costa, di nuovo sono arrivata qualche raffica, sono riuscito a prenderla e sono riuscito a fare qualche stacchetto lungo la costa, sono arrivato all'isola ed è stata una bella emozione, specialmente dopo averla vissuta così che per due o tre momenti ho pensato di non riuscire, poi finalmente vedere l'isola, salire sull'isola è stato fantastico. Il team ha lavorato benissimo, devo dire che è stato di grande aiuto, tutti i ragazzi hanno fatto la loro parte ed è stato notevole come aiuto a terra e poi via radio dicendomi appunto che eravamo quasi arrivati, diciamo che ce l'avevano fatta perché comunque come ho detto quando poi è ricalato il vento verso la Corsica è stato un momento impegnativo e diciamo di scoraggiamento. Faceva molto caldo, c'era pochissimo vento, ho fatto un pezzo pompando usando le onde, però poi l'onda è calata, il vento anche, è stato veramente complicato. In tutto il tragitto sono anche caduto una volta, non pensavo di cadere sinceramente, non perché io non cada ma perché di solito cado quando spingo in gara, sono caduto perché ho perso la concentrazione e comunque mi sono accorto che tenere la concentrazione alta a 160 km è impegnativo, è complicato. Poi mi sono svegliato, diciamo che stavo scendendo giù da un'onda e stavo aprendo il marsupio che avevo davanti con le barrette energetiche e mi sono distratto, mi è uscito all'anteriore del foil e sono caduto. Non è successo niente però diciamo che era evitabile, bastava stare più concentrati. Però come ho detto alla fine ci abbiamo messo 6 ore, più di 160 km dal GPS e quindi è impegnativo stare sempre sul pezzo, sempre concentrati per 6 ore, forse la sfida più difficile che ho avuto.